In questo nuovo episodio 25k di attivazione è ordinato Due guerrieri Ragazzi ha ordinato Mi hanno pagato già questi ragazzi Consegneranno armi, materiali e trappe Dove li possiamo insegnare? Eh se vuoi pure... Sarai un vero truffatore? A te la scelta Buonasera collega Peppe Buonasera, tutto bene? Hai portato... Quanti ordini ci stanno ancora? E altri 7-8 Porca troia Il tuo shop sta veramente Andando bene Che ha ordinato sto ragazzo? Tu hai ordinato 25k di attivazione O erano 20? Non mi ricordo Ciao 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 25k di attivazione è ordinato? Che le metti qui? Che faccio la sua vista Non prendere a faccio la sua ora Aspetta Allora Oh 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 Vedimi Ma posso avere anche altre cose? Non lo so Il pagamento già l'hai fatto, no? Ho bagliato Tu cosa hai pagato? Shadow Cioè se ne vuoi altro basta che invii il pagamento e ci diamo altro, nessun problema Tu hai pagato per i 25k di attiva celle, Shadow Dai ha detto di sì, veloce, 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 dai Ma lo faccio la storia, aspetta Ma per caso Dimmi, chi è? No, ma secondo me, Peppe, devi prendere, devi spostarlo da un'altra parte, perché sto posto è molto brutto Ma scusaci, Shadow, ma lei è proprio un truffatore, cioè, volevi truffarci Cosa balli, Shadow? Cosa balli? Volevi truffarci, ne? Perché truffi la gente, Shadow? Perché truffi la gente? Parla Hai perso la lingua? Cazzo, volevi fottarci 25k di materiali Abbandonato Peppe? No, 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 aspetta, zitti Che hanno ordinato questi ragazzi, Peppe? 15k di corlocente, mille 15k? Sì, sì Ok Comunque, sai, tu mi guardate la sopra delle paperelle che ho fatto Come? Ho fatto la sopra delle paperelle Ma, ragazzi, ha ordinato Ma, ragazzi, ha ordinato Hanno pagato già questi ragazzi? No, 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 Sadr, non prendere niente No, no, no No, no, no Forse, Sadr, no Forse è stato Sadr, no, no Ragazzi, uno di voi è stato effettuato il pagamento, cioè No, 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 raga, cioè Cioè, voi avete pagato, io te la do dava a forza la roba No, 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 io non truffo Cioè, sono Se così a te Dark Che è killer Cioè, non vi truffo Se vi dico che non ho ordinato, non ho ordinato Sto facendo solo dei finti urdi Ma, va bene Comunque, ragazzi, voi siete stati delle persone serie È per questo che voglio darvi il mio bene Tutto per voi Grazie l'onestà viene prima di tutti sono anche dei seguanti pepe il nostro lavoro è finito salutate youtube bella youtube killer ti stimo comunque killer sono il ragazzo che oggi ti ha scritto che la mia lingua preferita è il tedesco perché cazzo in the cool si di chi lo tieni chi fa le armi che ho dato io sono povero killer mi hanno truffato ragazzi datemi un voto killer dai miei poverelle che stanno là sopra beppe mi senti tutto a posto hai preparato la consegna ai ragazzi che dobbiamo farvelo dove ti possiamo consegnare se vuoi pure qua qua pure un signore si dove qua 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 dentro c'è un pochino più larga aspetta possiamo fare tipo un box ecco qua ecco qua pepe quanto non dire lo sbaglio erano 10k di carbone non lo so di che l'ho non so giusto sì che devo fare anche la storia non prendere faccio la storia non prendete sei contento che siamo venuti velocemente si contenti un attimo solo pepe non mi piace la cambia non mi piace la quel posto lo mettiamo più no no tipo alla scritta luco tipo la un po lo so ben amato la roba ok aspetta e che cazzo vuole salire se voglio ma qua qua va bene qua questo vuole mettere qua un attimo solo che prendi il telefono e pstf non vale niente va 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 andiamo qua ma scusa ma perchè mi vuoi truffare ma io non ti voglio truffare scusa io sto fanno dove li presi questi 10k di carbone ah mi scusi picco io io già forse ho capito ma scusa non lo so mi segui dall'inizio mai visto non è il periodo di giugno aspetta chi verrà una cosa ma lo sai che ti seguo che che io sono provato sempre ad entrare nei tuoi l'agene nella tua lobby quando stavi sempre nel live di cui io non scrivevo mai ma comunque ma comunque i 10k di carbone come hai fatto ad ordinare no è sul tuo sito sul mio sito è ordinato 10k no sul sito di peppe no il mio sito sul mio no sul sito di mille eh sei ancora quanto mi hai pagato quanto mi hai pagato aspetta non me lo ricordo vai a vedere no perchè sei semplicemente un truffatore e basta nessuno ha ordinato fra nessuno ha ordinato sto semplicemente facendo un video dei finti ordini e fai anche una figura di merda adesso e non dire che non mi segui dall'inizio perchè non ti abbiamo mai visto mai quindi altri due truffatori anzi più lui che l'altro ma lo conosci a questo no e perchè ci fai qua che non lo conosci sei entrato nel mondo di qui ah sei entrato nel cazzo comunque puoi ammettere che se non tu volevi truffarmi no perchè non mi ricordavo se non lo so nemmeno non ti volevo nemmeno truffare ah ma non mi vuole neanche truffare se due minuti fa hai fatto vieni qua mettilo qua no perchè non stavo capendo niente non stavo capendo niente no sei un briaco no fra no scusa io non avevo capito ma se stai facendo un vero ordine o non stai facendo eh ma pure se stavo facendo un vero ordine mica venivo da ti stavo facendo un finto ordine comunque ne abbiamo sgamato un altro pepino pepe? mi senti? mi senti? si si ah no c'era bugato l'audio devi consegnare a sto ragazzo? si si smoke ci sei? quanto ho ordinato? ho ordinato 5k attiva cella e 5k carbone ok dove? come non ho ordinato? non ho ordinato sul mio sito oh no grk pepe shop no lo ordinato ma com'è non mi ha anche pagato questa ma è lui vedi bene lì pepe si è lui non mi fai rinervosire ogni volta che dobbiamo entrare no è sicuro lui sai è giro pagato ma com'è no ordinato 5k attiva cella e 5k carbone e detto me li consegni per le 11 e 40 sono le 11 e 45 oh no no io ho ordinato niente te lo posso anche giurare tu hai anche pagato quindi vieni qua eh no perchè ti dovrei dire una cazzata quindi cioè però non poi non non dire alla gente che ti stiamo truffando perchè tu hai pagato mo' rimborsiamo ma fa no non c'è che se mi mandi là poi ti mando il rimborso ho visto che tu non due mazze bruno c'è non ti sto dicendo Peppe annulla il pagamento annulla annullo? si 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 ok comunque smoke ti devo dire un'altra cosa molto importante vieni qua dove vai? ecco comunque grazie per? essere onesto ah no perchè ti avrei dovuto dire una cazzata Peppe è una prova di fiducia 30k di mazze e un bel po' di anima vai ma? ma? no ragazzo non truffa è onesto no vabbè te lo regalo tutti il regalo mi raccomando condividi con gli amici ma se ora faccio la laggi di che passate tutti da lui se non vi iscrivete vi piccio ahahahah tutto per te prendi complimenti grande bro faccio la cioè faccio la laggi di per tutti fossero come te magari però mi dissocio dal lama ehm è una mia piccola opera d'arte prendi prendi prima le nabere muo è lama ah iscriviti da killer anonimo 89 non ti scuri si può andare da salvo oh tutto tuo è bello noi ce ne andiamo un salutone ciao ciao spero che sei contento eppe quitta ciao bello la battaglia dei finti ordini è finita mi raccomando sia onesto con le persone che la vita ti ricambierà a presto grazie